Siracusa droga a pugno duro della polizia per contrastare lo spaccio. Continua incessante l'azione di contrasto della polizia di Stato finalizzata a frenare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti rafforzata dal costore di Siracusa Benedetto Sanna che anche ieri ha dato degli importanti risultati portando all'arresto in due diversi contesti operativi di due spacciatori. Nella mattinata di ieri agente della squadra mobile in collaborazione con il nucleo cinofili antidroga della costura di Catania hanno arrestato un uomo di 36 anni già noto alle forze di polizia colto nella flagranza del reato di detenzione a freno dello spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo sottoposto a controllo dai poliziotti mentre si trovava nella scala condominiale di una palazzina in via Algeri, nota piazza di spaccio, è stato trovato in possesso di alcuni involucri contenenti sostanze stupefacenti di vario tipo, 3,9 grammi di crack e 5,45 grammi di cocaina, nonché una somma di denaro in contanti, probabile provendo dall'attività illecita. Nel corso dell'operazione è stato rinvenuto sopra la cabina del vano ascensore dello stabile altro stupefacente, 152 grammi di crack in pezzi interi e dose singole, 28,8 grammi di cocaina, 100,76 grammi di marijuana e 45,30 grammi di ascici, nonché copioso materiale per il confezionamento della droga. Pertanto l'uomo è stato arrestato e al termine delle incompense del rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.